buongiorno a tutti giambito d'angelo diretta live dai mercati oggi lunedì 18 maggio vedete il mercato stiamo osservando il fisio su dax sta attaccando la parte alta del canale vedete di questa figura di continuazione che sembra proprio una flag e qual è l'idea l'idea che il mercato in qualche modo vedete ha trovato praticamente supporto intorno aria 11 4 poco sopra e cioè poco sopra praticamente i massimi che il mercato i minimi che il mercato ha fatto proprio venerdì e quindi se questo dovesse essere tutto il tracciamento del mercato ha fatto verso il basso è probabile che l'aria intorno ai massimi di venerdì e quindi vedete aria intorno aria 11 6 30 11 6 40 in qualche modo possa a quel punto non essere più una potenziale area di resistenza c'è da notare vedere una cosa molto interessante che la media a 20 periodi c'è la rossa in qualche modo aveva fatto la resistenza in due test l'ultimo oltretutto l'ha fatto proprio venerdì ma ci sono delle semplici regole come spesso poi dico sempre in coaching alle persone che mi seguono che bisogna seguire eh anche in relazione per esempio alle medie e è chiaro che se la media in qualche modo mi fa eh un un minimo molto più alto vedete rispetto al precedente e c'è questo e più ancora rispetto a questo in area 11 eh 170 e è probabile che appunto l'area di resistenza essendo sempre più alta l'area di potenziale supporto in qualche modo potrebbe essere destinata a assaltare e quindi e quindi l'idea è che il mercato possa quindi uscire fuori da questa figura di continuazione e riprovare magari a a fare eh un a mettere su un trend che possa in qualche modo appunto riprodurre magari la fantastica inclinazione che ha avuto in questo inizio del 2015 per cui eh questo è il grande dilemma del treno è prendere o perdere un treno in corsa ci vediamo direttamente domani ricordatevi che questa è la settimana di IT Forum 2015 quindi per tutti quelli che ci vorranno essere farò molti interventi guardate poi il programma direttamente sul sito di IT Forum per eh magari incontrarci anche di persona ci vediamo direttamente domani eh Gianvito D'Angelo eh diretta live dei mercati. Per contattarmi potete chiedermi l'amicizia su Facebook perché questo è il luogo dove normalmente interagisco con le persone che mi seguono oppure per chi non dovesse usarlo potete mandarmi un'email all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Vi ringrazio Gianvito D'Angelo a presto.